La ricerca continua sulle neoplasie ematologiche da dei risultati considerati rivoluzionari. È il caso della leucemia mieloide cronica per la quale sono stati sviluppati farmaci mirati che portano ad oltre il 90% di risposte positive e quindi i pazienti affetti da leucemia mieloide cronica seguita alla nuova cura hanno prospettive e qualità di vita simile alle persone sane. Stiamo parlando di malattie neoplastiche del sangue che prima avevano una fama molto brutta, di malattie poco curabili o per niente curabili. In questo momento noi abbiamo prospettive di guarigione per molte di queste. In tal senso sicuramente le malattie neoplastiche del sangue hanno costituito un modello sia da un punto di vista di ricerca traslazionale ma anche di ricerca clinica su una prestigiosa rivista Nature Cancer Review, c'è un'editoriale proprio che sottolinea come tutti i progressi di cui beneficia l'attuale oncologia umana derivano dallo studio delle neoplasie ematologiche. Nel caso della leucemia mieloide cronica sicuramente abbiamo in questo momento un esempio consolidato di possibilità di guarigione di una malattia neoplastica utilizzando una terapia orale a bersaglio molecolare con minimi o nulli effetti collaterali, quindi con una ottima qualità di vita, possibilità di mantenimento dell'inserimento sociale e lavorativo del paziente durante la terapia che agisce progressivamente e effettivamente è in grado e si è dimostrato essere in grado di guarire la malattia. Abbiamo adesso più di 2.000 pazienti affetti dall'eucemia mieloide cronica in Europa che hanno interrotto il trattamento con successo e la malattia non si è ripresentata anche con un follow-up sufficientemente lungo di alcuni anni, quindi verosimilmente sono dei pazienti guariti. Grazie. 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 Grazie.